Musica Bene, ora passiamo invece a Gianmarco Galdi che ci introduce sempre tratto da Paradiso Un tema di Mozart è Inno alla gioia Un applauso ancora per Gianmarco Galdi Un applauso ancora per Galdi Un applauso ancora per Galdi Era Gianmarco Galdi con Mozart e poi Inno alla gioia Un applauso ancora per Galdi 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 Grazie. Grazie. Grazie.